In Manette, un trentenni accusato di resistenza pubblico ufficiale, pretendeva di essere curato all'ospedale policlinico di Palermo e dopo essersi rifiutato di farsi identificare, si è scagliato contro un poliziotto. L'uomo si è presentato al pronto soccorso già dal primo momento con atteggiamento aggressivo e violento per richiedere una prestazione sanitaria non specificata. Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale hanno subito individuato l'uomo in piedi nella sala d'attesa per chiedere di cosa avesse bisogno. Alla richiesta delle sue generalità l'indagato avrebbe rifiutato ogni tipo di collaborazione in vendo contro i poliziotti. Immediatamente ha assunto un atteggiamento oltraggioso, poi è passato alle vie di fatto, avvicinandosi con un fare minaccioso e strattonando il poliziotto. Nonostante la resistenza opposta, gli agenti sono riusciti a bloccare l'uomo e lo hanno fatto salire in auto per evitare che potesse arrecare danno a se stesso e presenti. Dagli accertamenti è emerso che sull'immigrato era stato emesso un provvedimento dell'equestore di lasciare il territorio nazionale. L'arresto è stato convalidato dal GIP.